Buonasera, ieri sabato 28 marzo il Premier Conte annunciava l'arrivo di alcune risorse economiche nei comuni. Poiché in molti ci state scrivendo, chiedendoci di che risorse si tratti e come le verranno spese, cerchiamo di dare un quadro complessivo per chiarire. Diciamo innanzitutto che queste risorse le abbiamo richieste noi, sindaci italiani, perché ci troviamo davanti a due grandi difficoltà. La prima difficoltà è la difficoltà di cassa. Moltissimi comuni hanno terminato la cassa, un po' come se i nostri conti correnti fossero a secco e non sapessimo come affrontare le spese quotidiane. Questa esigenza di cassa è stata risolta dallo Stato con uno stanziamento immediato di oltre 4 miliardi di euro che non sono nuove risorse, sono risorse che sarebbero arrivate ai comuni ma sarebbero arrivate nei prossimi mesi. Quindi ha anticipato questa erogazione proprio per fare in modo che noi avessimo dei soldi a disposizione nei nostri conti. Il mio comune per fortuna non ne ha particolare bisogno ma altri comuni erano in grande difficoltà. La seconda emergenza che ci troviamo ad affrontare invece è un'emergenza sui beni alimentari. Cioè molte persone purtroppo in questo momento a causa di questo enorme lockdown, di questa situazione straordinaria, in questo momento non hanno avuto entrate. Commercianti, operai, persone con contratti a chiamate, persone che in qualche modo non hanno avuto l'entrata su cui normalmente possono contare e che in questo momento hanno addirittura difficoltà a ottenere i beni primari, i beni alimentari. Di fronte a questa emergenza abbiamo chiesto aiuto allo Stato che il governo ci ha stanziato 400 milioni di euro. Questi 400 milioni di euro quindi non sono stati stanziati per i 60 milioni di abitanti in Italia, non sono stati i 190 mila euro che arriveranno a Belluno, non sono quindi per i 36 mila abitanti, ma sono a favore semplicemente delle persone che in questo momento hanno difficoltà a ottenere beni alimentari. Ce ne sono e ce ne saranno sempre di più. Faremo fronte con questi 190 mila euro a questa situazione straordinaria per i prossimi circa 15 giorni perché a partire dal 15 aprile circa il governo ritiene di poter riuscire a sbloccare la cassa integrazione e quindi far arrivare le prime risorse economiche a quelle famiglie che in questo momento sono a secco e sono in attesa. Quindi si tratta di 400 milioni di euro, cioè 190 mila euro per il comune di Belluno che non servono per tutto l'anno 2020 ma praticamente per una quindicina di giorni circa per aiutarci in questa fase temporanea ed è per questo motivo che domani mattina ci riuniremo con i servizi sociali proprio per trovare una modalità di erogazione rapida, semplice, sulla base delle richieste che ci perverranno in comune in modo tale da poter aiutare nell'immediato le famiglie che in questo momento hanno questa difficoltà. Non si tratta chiaramente, questi 400 milioni o questa anticipazione di 4 miliardi non sono chiaramente le risorse di cui abbiamo bisogno invece come comuni per fronteggiare tutta la emergenza nel suo complesso e che sono oggetto in questo momento di una interlocuzione fra i sindaci e lo Stato e il Governo finalizzata a vederci riconosciute in un decreto che uscirà ad aprile quelle risorse di cui abbiamo semplicemente bisogno. Quindi si tratta di due momenti diversi, uno che era questo di una situazione emergenziale per la quale noi sindaci abbiamo chiesto un immediato riscontro e un altro nella quale stiamo interloquendo con il Governo proprio per dare una risposta più complessiva a questa emergenza molto importante. Lo stiamo facendo con spirito costruttivo nei confronti del Governo, nei confronti delle Regioni perché durante un'emergenza bisogna parlarsi e non fare tante polemiche e quindi siamo qui invece per relazionarci con tutti i livelli cercando una soluzione per uscire da questa grossa situazione. Nel frattempo anche voi vi chiedo di fare la vostra parte stando a casa naturalmente, evitando contatti e facendo tutto quello che ci è sempre stato richiesto di fare. Grazie e al prossimo aggiornamento.